Mi alzo al mattino per continuare a sviluppare un sogno di portare l'azienda al livello che merita raggiungere. In realtà io da ragazzo, fino a qualche anno fa, oltre a fare questa attività, facevo il DJ. Ho sempre avuto questo conflitto day-night per gran parte della vita. Noi vecchi DJ eravamo abituati a sviluppare le cose e non a seguire le correnti. E quello che abbiamo fatto nella musica lo facciamo con le aziende. Ci siamo tre fratelli, siamo molto uniti, anche se molto diversi. La cosa importante è avere sempre la voglia di sedersi a un tavolo e affrontare qualsiasi questione. che è la cosa che spesso viene a mancare, perché specialmente nei rapporti familiari ci si danno per scontate tantissime cose. E poi si creano dei castelli campati per aria che nel giro di poco possono generare delle situazioni spiacevoli. Quindi calma, si parla, si affronta e si va avanti. E deleghiamo agli altri il creare problemi. Grazie a tutti.